Natale, tempo di regali, trash. Oggi vi parlerò, anche se non l'ho ancora letto, perché lo voglio scoprire con voi, magari non è trash. Pensate alla delusione se fosse un libro serio, no, che palle. Fatto sta che due miei amici, che io saluto, Leo e Anna, mi hanno regalato un libro per Natale. Ovviamente l'hanno scelto volontariamente trash, ho preso un totale. Ed è un libro fuori catalogo, che non si trova da nessuna parte. Su IBS c'è, ma ci mette tipo tre settimane ad arrivare. Su Anobi non esiste. Mi chiedo, ma che libro è? Che cos'è? Cosa sarà mai? Non si sa. E questo è il bello. Mi hanno detto palesemente che l'hanno trovato in un mercatino, in un mercatino dei libri usati, una roba del genere, dove si vendono libri esclusivamente trash oppure chicche introvabili. E non mi ci hanno ancora portato, quindi portatemi, perché, cioè, ve lo dite così, mi date queste informazioni spirituali e non andate alla fonte dei fatti. Fatto sta che mi hanno regalato questo libro, che è Il sesso superiore di Marco Tognato. Io quando l'ho visto ho detto, ma cos'è? Poi ho cercato di capire, dietro non, diciamo che non aiuta la retrocopertina, ho cercato di capire che cosa fosse. Non mi è chiaro, non mi è chiaro se trash o meno. Non mi è chiaro il tema. Non mi è chiaro il contenuto. Non ho capito niente. Non ho capito solo un romanzo, se è un saggio. Niente, non mi è chiaro. L'unica cosa che ho capito è che dovrebbe essere un libro di matrice femminista, penso, non lo so. Anche se l'ha scritto un uomo, però ci sta. Ma non ho capito se veramente il tema è la superiorità della donna sull'uomo. Non mi è chiaro. Sul libro c'è, sulla copertina sembra che c'è sia Rihanna che si fa la doccia. Boh. Qua c'è una breve sinossi. Sinossi. È una cosa che recita. Nell'attuale anarchia universale è necessario fermare il maschio. Leggendo codesto libro potrete tutti capire come fare ciò. Però, in nome dei vostri figli, nonché vostro, fate presto. L'autodistruzione incombente dell'intera umanità non è una trovata pubblicitaria. Capite perché non capisco il focus del libro? Non si capisce se è veramente un libro femminista, se il tema è quello, se è la distruzione dell'umanità. Non è chiaro. Io ho provato anche a sfogliarlo, non capisco. È un libro che non sa da che parte prenderlo, non lo so. Cioè, è un mistero questo libro. Sono contento che me l'abbiano regalato. Perché è una prova, è una challenge. C'è gente che fa la 10.000 calorie al giorno challenge, la Chubby Bunny challenge, tutte queste cose qua. Ecco, la mia challenge è a scoprire che cosa è questo libro. E dovete scoprirlo con me se qualcuno l'ha letto, non l'ha letto, io non l'ho letto, l'ho sfogliato. Però, proprio perché non si capisce che cos'è, che non è chiaro, Cioè, dopo sembra un cretino, perché dico, non l'ho letto, non capisco di cosa tratta. E mi dite, bravo, scemo. Ma invece i dubbi persistono dalla copertina, da come si presenta. Non lo so, è un libro strano. Devo capirlo, è un libro occulto. Non lo so. E quindi ho deciso di scoprirlo qua insieme a voi. Aprire proprio a casaccio, perché secondo me va letto così, me lo sento, con Buona Pace di Marco Tognato, che è l'autore, aprirlo a casaccio, cercare di capire, leggere delle porzioni, scioccarmi, non lo so, non so cosa aspettare, magari una palla mortale, non lo so. Fatto sta che io aprirò, in questo preciso istante ho aperto, e leggerò ciò che mi cade sotto gli occhi, ad alta voce. Stalinista della prima ora, litigava con tutti i registi, che ad un certo punto, non accettavano di dare alla storia, in via di stesura, la svolta che lui riteneva più opportuna. Era successo con Damiano Damiani. Damiano Damiani è un regista italiano, che ha fatto film carini, e poi ha diretto Alex Larichette. quindi andiamo bene, siamo già in mood. È successo con Damiano Damiani, con il quale aveva ideato, insieme a Massimo De Rita, la prima serie del serial tv, La Piovra. Era successo con altri registi, e successe anche con me. Quindi si parla anche di La Piovra. Però cos'è che è successo? Adesso devo capire. Come si chiama il nome del capitolo? Capitolo 9. Bene, bene. Aspetta, ma è un regista questo? L'avventura del mio primo film. Ma cos'è che ha diretto? Io non l'ho mai sentito. Questo mi gasa, perché tratta anche il mio campo, diciamo. È noto che il cinema, soprattutto quello impegnato, è solo apparentemente progressista. in realtà è assolutamente reazionario. Ma sotto questo aspetto sarà affrontato con più ampie argomentazioni più avanti. Dai primi anni di scuola erano passati una quindicina d'anni, nel corso dei quali il mio amico va fatto carriera nell'attività di compraventa di vecchie case ristrutturate del centro storico di Roma. Mi cade già la palpebra a leggere queste frasi. Non mi è chiaro, non lo so, cioè non capisco. Non capisco. Cazzo, qua si cita anche Leo Pietri. Non capisco se è un libro intellettualmente superiore o di un altro pianeta, non mi è chiaro. Anche perché qua continua a parlare di cinema, ma sta superiorità della donna dov'è? Oh, qua si parla di maschio, vediamo. Di chi sta parlando qui? Tua madre mi fu presentata da un mio amico, un piccolo imprenditore edile che viveva in una villetta ubicata alla periferia di un paesotto contiguo a Roma, un tipo piuttosto strambo, con la mania non proprio originale delle auto di lusso, anche lui separato e convivente con la rumena. Bellissima, ma che gli faceva vedere come si suol dire i sorci verdi. Nel senso che se a lei andava un altro uomo, faceva quest'ultimo apertamente la corte, ma com'è scritto? E talvolta arrivava persino a portarselo via seduta stante, cioè davanti ai suoi occhi, agli occhi di tutti i presenti, e sia che stessero in un locale pubblico che presso privati. E lui, nonostante ciò, o forse proprio per questo, non riusciva a lasciarla, vagli a capire gli uomini. Ah beh, ci sta, secondo me, però, succede anche con, dall'altra parte, nel senso quante donne restano con uomini stronzi, cioè, purtroppo, la vita è ingiusta, la vita ci spinge ad innamorarci di gente di merda, e accade sempre così. Quindi questo posso capirlo, Marco Sognato, ma non mi è chiaro perché tu scrivi come, stessi scrivendo, come stessi facendo un contratto aziendale, parlando di cose da centro sociale di sinistra, con un atteggiamento snobbe e pseudo-feminista. Qua si cita di Vero, di Vero a Manette. Alex Binet. Com'è che inizia? Vediamo lì, l'incipit. Dopo aver letto migliaia di libri e conosciuto migliaia di persone di ogni razza a livello sociale, sia come regista, sia come venditore di opere d'arte e di enciclopedie, da qualche tempo a questa parte ho cominciato a cedere alla tentazione di azzardare qualche bilancio, diciamo, esistenziale. In questo tipo di tentativi di bilancio, un bilancio vale l'altro. Comunque, questo non manca certo di presunzione. Sono d'accordo. No, non l'ho detto io, sono d'accordo, è proprio scritto. In effetti, e forse non è il caso, non mi sono mai imbattuto di nessuno che in forma scritta o verbale azzardasse conclusioni simili a quelle in esso contenute e aggiungo che quando mi capita di lasciar scivolare abbastanza provocatoriamente tali conclusioni nelle comune conversazioni, in genere finiscono o con l'essere considerate frasi un po' infelici e fine a se stesse o il frutto della mia rabbia per non aver conseguito col successo che sebbene a parole allora se chiudete il video qua ho già capito che fate bene nel senso ci sta non dovete incazzare non dovete sentirvi in colpa vi capisco cioè io mi sono rotto i coglioni ad alleggere questa frase e che sebbene e tutto si oscura e che sebbene a parole abbia sempre disprezzato di fatti non ho mai smesso di cercare sì ma qual è l'incipit della cosa cioè nel senso sembra che sto giudicando il libro a cazzo ma è verità è un mistero non so come prenderlo non so come non so è un libro che mi sento come un'analfabeta che non ha mai visto un libro glielo dai in mano hop gli dai to Anna Karenina così gli arriva in mano dice oh dio cos'è sta roba e lo butto pensando che fosse una che sia una bomba cioè cos'è ecco mi sento così mi sento così non so come prenderlo non è un libro che va letto a pelle lo sento ed è strano vorrei sapere se esistono altri libri del genere non è un libro che dici lo inizio lo leggo come le pagine mi portano mi trascinano verso la fine e io sono contento è proprio non lo so non lo so vediamo un altro passaggio cerchiamo di arrivare al noccio della questione cerchiamo di capire perché si parla di superiorità della donna va bene cioè però almeno Valeri Solanas con manifesto dell'eliminazione del maschio che tra l'altro per quanto sia troppo agguerrita secondo me diceva delle cose interessanti quasi non c'è il tema cioè da quel poco che sto guardando non c'è non mi sembra che ci sia un tema non ho neanche capito tuttora se è un romanzo o una o una un saggio non è chiaro non a caso quindi una stangona era quella che le subentrò alcune settimane dopo era una quarantenne romana de Roma che di più non si può era infatti del quadraro un quartiere popolare e appunto romanissimo era una sarta pellicciaia improprio anche lei sempre piena di soldi quasi una ripetizione della piemontesina quindi era sposata aveva due figlie e un marito molto liberale che quantunque sardo le lasciava la più totale libertà ed è compresa quella di poter restare fuori di notte purché rientrasse prima che facesse di nuovo giorno in questo modo lui era convinto di poter far sì che i vicini non si impicciassero dei cazzi loro una gran rottura di scatola è per me perché così come l'andavo a prendere ogni volta dovevo raccompagnarla proprio nei momenti in cui dopo aver fatto all'amore è più forte la voglia di restarsene a letto per fortuna la storia è durata solo 7-8 settimane fu lei a lasciarmi per un altro più giovane di me di almeno una decina di anni più alto di me un tipo aitante una specie di attore hollywoodiano uno di quei tipi insomma che prendono e lasciano le donne come quando gli pare infatti un mese dopo la lasciò al che lei voleva tornare con me non ci stetti non per ripicca semplicemente perché era accaduto in me ogni interesse nei suoi confronti in quanto donna siamo rimasti buoni amici e quando capitava abbiamo continuato a ballare insieme ok non lo so ultimo aneddoto vediamo il finale perché qua si parla cioè sto cercando di capire Vanzina ma come parla di Vanzina anche ah no Enrico però Enrico è il fratello di Carlo e infatti Enrico Vanzina e Carlo Vanzina sta parlando scuola di seduzione io finirò io so già che trascorrerò tutto il periodo di Natale e feste eccetera a non a leggere perché non è un libro che non si può leggere secondo me cioè l'ho detto mi dà quell'impressione ma a contemplare a cercare di capire che cavolo di oggetto tra le mani è misterioso io voglio leggere il finale tanto secondo me non ha una c'è c'è della politica c'è non lo so mi sembra avete presente quelle persone che per che sono molto da cliché però esistono io non ho avuto la conferma lavorando frequentando certi ambienti le trovi esistono quelle persone cliché che per raccontare una cosa banale tipo ho bevuto un cappuccino con la brioche te la raccontano come se fosse che ne so con dei termini tipo candore con quale candore ho bevuto il caffè con la brioche il cappuccino con la brioche in modo totalmente borghese e antiliberale non so cose del genere ecco prendete una persona di quel tipo con un terrorista con una femminista guerrita e con uno studente di cinema del dams che però non ha mai visto neanche un film in vita sua e non sa chi è eisenstein mettete insieme tutte queste persone e esce questo libro e aggiungeteci anche uno dei giovani cannibali tipo anche di quelli grossi tipo Aldo 9 eccetera ecco uniteli tutti assieme fateli parlare sotto effetto di lsd ed esce fuori sta cosa penso non lo so non mi è chiaro io leggo il finale e vedo cerco di capire se ne vale la pena approfondire o meno d'altra parte senza un punto di riferimento senza quella specie di bussola che infonda il cuore non ti sarà facile trovare un tuo orientamento esistenziale grazie però se nonostante tutto saprai aspettare aspettare ancora e riuscirai a non montare in cattedra e a darti traguardi troppo grandi tali che per raggiungerli potresti essere costretto a venire a compromessi e saprai altri sia ascoltare la parsimonia che anche il sesso consiglia va dove lui ti porta senza tuttavia nel contempo mai dimenticare del tutto che tu non appartieni al sesso superiore ma ciò non di meno dovrai comportarti quotidianamente nei confronti dei tuoi simili come se invece appartenessi a tale sesso perché? perché purtroppo a questo mondo non c'è pace per i giusti ma è anche interessante sta chiusura in verità però non riesco a collegare cose non riesco a collegare le cose che mi si teorizzano davanti mi sembra tutto un guizzabuglio che neanche l'André Breton di Nadia un surrealismo spicciolo oppure quelle ecco in mezzo alla gente nel calderone borghese che ho detto prima aggiungeteci anche quello che scrive gli stati di facebook tipo una bimba minchia di 14 anni che copia in coda le citazioni di Bukowski ma sono citazioni del tipo e lui aprì la porta citazioni che servono per la narrazione ma siccome sono di Bukowski assumono un valore in più un quid in più ecco oppure ancora quelle che di sotto sono ragazze ma anche ragazzi lo fanno non vogliamo generalizzare tipo quelli che per dire una cagata una cagata senza senso dicono l'inconscio l'inconscio che scivola sulle pareti dell'esistenza in questo solco chiamato vita ecco però con una carica da centro sociale non lo so non lo so non lo so non so cosa pensare è stato distribuito da Editore Chiaravalle il libro è del 2004 possiede la bellezza di 207 pagine ed è scritto da Marco Tognato un uomo un perché cerco di capire che film ha fatto Marco Tognato vediamo magari è uno famoso magari ho visto qualcosa di suo ma i movies ecco lo scopro con voi in diretto ragazzi adesso sono io il cretino sono il coglione no c'è è presente ma non si sa cosa fa cioè è presente nell'archivio ma non ha una filmografia mistero quest'uomo io sono quasi affascinato dalla sua figura anche su Cominsun esiste ma non ha ah no ecco ha diretto La Lingua e Un Tranquillo Matrimonio di Provincia devo cercarle assolutamente sti film drammatico ma ci ha lavorato attori famosi qua incredibile ok basta che sto cazzeggiando è proprio un video di cazzeggio è un video di tanti perché insoluti aiutatemi aiutatemi a capire grazie mille ciao ciao